Escursionista colta da Malore stamattina attorno alle 10.30 nelle vicinanze di Fortecima Campolungo a Rozzo. La donna che si trovava con il marito e aveva perso conoscenza è stata raggiunta sul sentiero da una squadra di soccorritori assieme ai carabinieri forestali dall'equip medica dell'elicottero di Treviso Emergenza atterrato poco distante dal personale sanitario di un'ambulanza. La 61enne di Chiampo è stata trasportata fino all'ambulanza da lì all'elicottero decollato poi in direzione dell'ospedale di Vicenza.